Ecco qua il mio nuovo monolocale, mono, 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 monolocale. La prima notte mi ha causato una leggera crisi d'asma, speriamo che nonostante i muri siano stati imbiancati, tutto questo non succeda più, perché io qua ci dovrò trascorrere un bel po' di mesi. Questa è la giustizia, voi avete una casa con 13 camere e 6 bagni, fatta da me, pagata da me, ristrutturata da me. Voi state larghi, io mi sono ridotto a vivere qui e ancora grazie che c'è qualcuno con cui condividere la casa e pagare le spese. Fatelo presente a vostra madre e fateglielo pure vedere, perché lei sarà contenta di avermi ridotto in questo modo, era quello che voleva. E a mia sorella anche, perché voleva mandarmi al manicomio, però io, anche se vivo come un prigioniero, sono sempre libero e sono sempre sano di mente. Buona giornata, meditate.